Una cerimonia, come ho voluto dire il comandante, sobria perché chiaramente il momento, il terremoto, le vittime, lo sforzo delle forze dell'ordine e quindi bella cerimonia come sempre, presidio di sicurezza, risultati straordinari sulla lotta alla repressione, quindi agli arresti dei più grandi latitanti il sequestro dei beni che è stato una delle novità degli ultimi anni con veramente cifre enormi di sequestro di beni che si incidono nel sistema di potere della camorra e della malavita quindi anche in questo dal punto di vista della repressione ci sono dei risultati straordinari e devo dire iniziano anche sul piano della prevenzione e della cultura della legalità e solo un ringraziamento all'arma dei carabinieri per quello che fa nella regione campagna